Ma la intendeva come dire, qui più se ne fa e meglio è? Faccio oppure, che cosa voleva dire? Ristabiliamo un po' di verità storica. La frase si riferisce esclusivamente ai tamponi e stava a significare che bisogna fare il tampone a tutti perché non possiamo rincorrere il virus, lo dobbiamo circoscrivere. Quindi io sono stato sempre un pautore del fatto che i tamponi andavano fatti a tutti, soprattutto a coloro i quali erano stati a contatto con delle persone che poi erano risultati positivi. Ma cosa c'è di strano? E l'accusa quando dicono che la sua madre l'ha fatto il vaccino è vera o falso? È un falso, è un falso. I amici o parenti, anche quello è falso. È un falso. Mia madre, 91 anni, con patologie neoplastiche, è stata vaccinata nel mese di marzo e aprile. La prima dose a marzo, la seconda ad aprile. Quindi cosa? È la procura che ce l'ha con lei? No, guarda... Eh no, me lo spieghi perché... La procura che ce l'ha con... Allora, io sono una persona... Si sarà fatto un'idea. Allora, dottor Santoro, sì, mi hanno fatto quest'idea. Io sono una persona libera. È rimasto a prima. E lo sa perché sono libero. È rimasto a prima, però è un complimento. Perché il cantore comunque... No, chiedo scusa, perdono, perdono, perdono. Sì, no, va bene. Le chiedo scusa. Ma no, ci mancherebbe. Io sono e mi sento una persona libera. E siccome quello che ho raggiunto l'ho raggiunto con le mie forze e quindi non devo andare a nessun santuario a questuare nulla, io sono quello che si vede. Cioè sono una persona che fa quello che ritiene giusto fare, così come ho fatto. Perché quando... Dice, io non ho fatto uno di sbagliato. Allora... Però si è dovuto dimettere? No, un attimo. No, no, mi spieghi, perché poi il tempo qua corre. Si è dovuto dimettere, però... Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. E la procura mi ha sospeso. Quindi siccome avevo già maturato la pensione, me ne sono andate in pensione. Non è che mi sono dimesso. Me ne sono andate in pensione. Perché potevo stare un anno senza stipendio. Una persona, un professionista che vive del suo stipendio postale un anno senza stipendio. Me ne sono andate in pensione. Beretela voi, fregatela voi. Questo è avuto il mio gesto. Ma qua abbiamo un ex PM. Vorrei chiedere al dottore De Magistris. Se io le avessi fatto una denuncia, dottore De Magistris, per inadempienze, per... mi aiuti a trovare il termine. Lei avrebbe potuto indagare su di me. Siccome io queste denunce le ho fatte in tempi non sospetti... Contro chi, scusi? No, per essere chiari. Contro la procura della Repubblica di Paola di Cosenza è di Cata Zara. Lei dice che la procura ce l'ha con lei? È di Cata Zara. Mi dice no. Io non dico questo. Adesso sta dicendo questo. Questo lo accerteremo in un secondo momento, questo fatto qua. Però c'è un fatto storico che io le denunce le ho sempre fatte e c'è un testimone. C'è un testimone a cui dissi nel lontano 2012... Chi è, Polimeni? Certo. E lui disse ma scusi, ma allora perché la magistratura... Perché dice o sono collusi o sono incapaci. C'è su YouTube. Basta andarla a sfogliare questo fatto qua. De Magistris. Basta andrà a sfogliare questo fatto qua.